Passiamo anche a una fase che oltre alla vaccinazione abbiamo anche le terapie, quindi sicuramente il Covid ci fa paura, ci deve continuare a fare paura, ma riusciamo ovviamente a gestirlo in maniera diversa e in maniera più pronta. Da ultimo, insieme alla vaccinazione, anche di pochi giorni la possibilità di uscire la comunicazione da parte del Ministero del Paxmovid che potrà essere prescritto anche dal medico di medicina generale, quindi sarà possibile tramite il piano terapeutico andando a ritirare in una propria farmacia convenzionata, questo è un ulteriore tassellone insieme ai vaccini che porta ovviamente a combattere il SARS-CoV-2 come un'altra malattia e quindi non più essere in una situazione come eravamo prima di uno stato di emergenza urgenza. Questo è un farmaco che sostanzialmente è costituito da due compresse che viene effettuato per un ciclo di 5 giorni, uno che sostanzialmente è un anivivante del farmaco e l'altro va a decidere proprio sulla protease, quindi sulla replicazione del virus. Ha avuto studi molto importanti e di grande efficacia su ovviamente la popolazione che è più o maggiormente a rischio, quindi da ipertesi che ha una malattia renale e così via e deve essere assunto entro i primi 5 giorni della comparsa dei sintomi.